In occasione della festa di Santo Stefano, Santo Patrono del Monastero delle Suore Carmelitane di Via Guacimanni, Suona Anastasia e le sue consorelle hanno realizzato un video, un video documentario, in cui sono raccontate le vicende del monastero e delle monache che lì hanno vissuto la propria storia di fede, intrecciata la vita nella città di Ravenna. Abbiamo pensato di realizzare questo video, un filmato storico, che ci aiutasse anche a recuperare tutta la nostra memoria, e il cammino della nostra comunità è un cammino lungo, è partito nel 1773 e fino ad oggi questa realtà monastica qui a Ravenna è rimasta viva. Quindi noi oggi ci troviamo a ricevere questa eredità, a vivere dentro questa eredità e ci piaceva da una parte riscoprirla noi, proprio sentire la freschezza, la forza delle origini, delle radici, ma dall'altra parte ci piaceva anche offrire questo dono agli amici, alle persone che ci avvicinano, a chi ancora non ci conosce, perché continuiamo ad essere convinte, nonostante anche la fatica della nostra vita qui, continuiamo ad essere convinte che vale la pena rimanere, vale la pena coltivare la bellezza della nostra chiamata monastica, di preghiera, di accoglienza alle persone, e quindi per questo cerchiamo un po' tutti i canali possibili per aprire punti di contatto con le persone attraverso la preghiera, ma anche attraverso momenti formativi, di scoperta di questa realtà. Un video ci è sembrato uno strumento molto interessante, stimolante, bello, e quindi ci siamo messe in questo lavoro, aiutate dal nostro amico Corrado Giove, che riesce proprio ad esprimere attraverso le immagini una grande ricchezza di tutta la parte storica, ma anche di tutta la parte spirituale che fa parte della nostra realtà. Quindi appunto la storia, diciamo così in qualche modo, la vostra storia collegata alla storia di Ravenna attraverso i secoli. Sì, esatto, è molto importante questo legame tra la nostra piccola comunità e la città di Ravenna. Abbiamo rivisto anche attraverso immagini storiche recuperate da internet questo legame di vita che è rimasto intatto attraverso periodi storici anche molto difficili, qui a Ravenna, la soppressione napoleonica, il governo di Cavour, quindi le sorelle che sono dovute scappare, hanno dovuto nascondersi, la prima guerra mondiale, i bombardamenti. Il monastero ha subito gravi danni durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo ritrovato in archivio delle foto bellissime con le sorelle che in mezzo alle macerie cercavano di recuperare tutti i mattoni possibili per ricostruire. E poi il dopoguerra, il ritorno delle sorelle che erano sfollate, la ricostruzione di questa casa che oggi è accogliente, ma quando sono arrivate le nostre sorelle più anziane era veramente un luogo difficile da vivere. Sara Pietracci per Ravenna Web TV